A Disernia sarà realizzato il Parco Santa Croce, l'ambizioso progetto di riqualificazione di una struttura alberghiera cittadina presentato questa mattina nella sede del gruppo Colella. Vediamo. Parco Santa Croce è il nome della struttura ricettiva con hotel, piscine ed aree verdi che sorgerà a Disernia dalla riqualificazione dell'immobile Exla Tequila. Acquisito dal gruppo Colella con un impegno di spesa complessivo che si aggira intorno ai 6 milioni di euro, presto diventerà una realtà moderna, funzionale ed attrattiva dal punto di vista turistico ma anche per la popolazione locale vista la presenza di un complesso sportivo. Il programma dei lavori, già partiti, prevede due step. Entro l'estate l'ultimazione della piscina esterna con annessi servizi, altre due piscine di cui una semi-olimpionica sorgeranno all'interno dell'hotel. Fanno parte del secondo step di interventi che, insieme a tutti gli altri previsti dal progetto, dovrebbero essere ultimati entro l'anno in corso. Nel dettaglio sale conferenza e poli funzionali, nuove sale ristorante ed ampliamento dell'esistente, ludoteca e baby parco, solarium e non da ultimo un ampio parco verde attrezzato. L'hotel, a pieno regime, potrà accogliere fino a 150 ospiti. Nel suo complesso la struttura rappresenterà una risorsa per la collettività locale ed un potenziamento della ricettività turistica della provincia, ha sottolineato stamane Camillo Colella nella conferenza di presentazione dell'ambizioso progetto. L'imprenditore si è soffermato anche sull'aspetto delle ricadute occupazionali, dirette ed indirette, che ne deriveranno. Credo che sicuramente a regime 30-40 persone ci lavoreranno, più tutto l'indotto di fornitori e di servizi che darà. Questa è una bella struttura che darà un eco fortissimo a tutta la regione molise, ma anche per attrarre clienti da fuori.